Al Palasport di Camaiore andiamo in scena l'anticipo della sesta giornata di ritorno di Serie C di pallacanestro tra Vela, Viareggio e Amen, Scuola Baschetta Rezzo. Gli Amaranto, dopo aver conquistato il secondo posto nello scontro diretto di domenica scorsa con Carrara, non hanno abbassato la guardia affrontando la formazione viareggina che al momento occupava l'ultima posizione della classifica, ma che dopo il cambio di allenatore con l'avvento di Giovannoni, aveva dato segnali di reazione vincendo la gara in trasferta con l'Audax Carrara e mettendo alle strette in casa il costone Siena, una delle formazioni più in forma del momento. Se a questo si aggiungeva la mare esperienza dello scorso anno, quando l'Amen subì in trasferta con Viareggio una sonora sconfitta nel momento più importante della stagione, si comprende come gli Amaranto dovessero giocare con la massima intensità senza tenere conto dei punti in classifica, perché in questo campionato comunque equilibrato ogni partita presenta molte difficoltà. E anche stavolta è andata così, con la SBA che è riuscita a spuntarla 85-77, SBA in vantaggio fin dal primo quarto, 17-11, all'intervallo lungo Amen avanti 49-36. La partita della SBA è stata a volte contratta contro una squadra piuttosto fallosa, che poco prima dell'intervallo lungo era quasi riuscita a raggiungere l'Amen. Altro fieno in cascina per un'Amen SBA sempre più proiettata nelle primissime posizioni.